Sospiri, avete denunciato questa mattina in conferenza stampa come alcuni fondi strutturali che erano destinati al combattere il dissesto idrogeologico nella nostra regione siano stati utilizzati per altri fini e altri scopi come l'acquisto di nuovi autobus tua e per questo avete scritto una lettera all'attuale presidente vicario della regione Lolli. Sì, l'aggiunta d'Alfonso prima che terminasse questo pessimo governo regionale prende 10 milioni di euro del dissesto idrogeologico, di un fondo complessivo più ampio e li dà a tua per comprare gli autobus. Cioè non abbiamo preso i soldi per le frane, per salvare la vita della gente, i beni, le case, le infrastrutture primarie come le strade provinciali o i capannoni artigianali e li abbiamo dati a tua per comprare gli autobus. Nulla contro l'acquisto dei nuovi autobus ma credo che i soldi per finanziarli non fossero quelli per contenere il rischio delle frane. In passato era stata fatta una gradatoria, questa gradatoria è fatta tramite criteri oggettivi di un sito internet che si chiama Rendis che calcola la gravità della frana e il danno che procurerebbe qualora la frana effettivamente andasse in azione ovvero i beni, quanti cittadini vengono coinvolti, quali danni si fanno le infrastrutture primarie. Avendo tolto 10 milioni di euro e non essendo riusciti a coprire questo buco per i soldi che nel frattempo ulteriori ci aveva assegnato la comunità europea per questo problema dopo la tragedia nevesisma 2016-2017, ricordiamo tra gli altri di Copiano, oggi noi ci troviamo 11 comuni non finanziati. Alla vigilia della stagione invernale, con migliaia e migliaia di cittadini coinvolti nel pericolo che si attivino queste frane che sono lì, purtroppo per potessi generale, noi riteniamo che questa sia una vera follia. Abbiamo scritto al Presidente Lolli che ovviamente svolge le sue funzioni di ordinare amministrazione per qualche giorno, da qualche giorno, gli abbiamo scritto il 27 di agosto e oggi siamo costretti, come sempre, non avendo ricevuto risposta, a denunciare il fatto. Cosa vogliamo? Noi vogliamo che si trovino questi 10 milioni di euro, togliendole a opere, seppure importanti, ma che possano attendere rispetto alle opere che sono collegate alla salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini abruzzesi.